Una targa di marmo e un premio in denaro sono stati consegnati venerdì scorso ai vincitori dell'edizione 2011 dei Lucani Insigni, che si sono distinti per meriti professionali conservando un forte legame con le origini. Quattro personalità che hanno saputo rappresentare l'operosità e le capacità professionali dei Lucani nel mondo. I riconoscimenti sono stati consegnati, tra gli altri, dal presidente della regione Vito De Filippo e dal presidente del Consiglio regionale Vincenzo Folino, che hanno ribadito il ruolo dei Lucani che onorano la Basilicata nel mondo. Aglioni e gli altri, vi sono tante personalità che sono affermate nel mondo, che hanno tenuto alto il nome dei Lucani, ma vi sono anche personalità che nel mondo sono affermate nella professione. È un giusto riconoscimento che la nostra terra, la nostra regione, dà queste personalità. È sempre una bella storia quella di raccontare la traiettoria umana, professionale e di capacità dei nostri corregionali che si sono imposti in tanti luoghi del mondo e in tantissime attività. Quella dei Lucani Insigni è una manifestazione particolarmente emozionante perché innanzitutto descrive queste storie e in più costruisce esempi, secondo me, di grande valore. Grazie.